amici di motosport.com ciao a tutti siamo al consueto appuntamento del mercoledì e quando dico mercoledì ovviamente parliamo di doctor formula 1 e quindi il dottor ricardo cecarelli ricardo intanto ciao grazie di essere qui con noi sei rientrato da da monte carlo gran premio di monaco credo che ci sia parecchio da dire perché era un appuntamento molto molto atteso noi lo abbiamo raccontato la scorsa settimana come una gara molto impegnativa dal punto di vista mentale e allora la prima domanda che ti voglio fare abbiamo visto tre ragazzini giovani sul podio max verstappen carlos sainz e lando norris tre giovani che sembravano che non avessero nemmeno corso il gran premio addirittura carlos sainz non aveva alcun segno di sudore che risposta dai allora ce l'hai tracciata come la gara più difficile dal punto di vista mentale e poi scendono tre fiorellini appena sbocciati mi hanno clamorosamente smentito no non sono d'accordo sicuramente c'è una chiave di lettura e invece mi interessa che tu possa spiegare ai nostri amici la chiave ma vedi il guidare una macchina di di formula 1 ma qualsiasi macchina io dico uno sforzo psicofisico bisogna sempre mettere queste due parole insieme e non è solo fisico non è solo mentale è l'insieme delle due cose mi ricordo proprio un esempio di un gran premio dove un pilota giovane giovane come loro forse anche un po più giovane di loro fece una gara con molto impegno arrivò molto affaticato alla fine ma aveva soltanto dei piccoli tratti dove era andato al limite perché l'ingegnere lo guidava nelle strategie era i tempi tanti anni fa si partiva col serbatoio più o meno pieno in qualifica lui si era aveva scelto una strategia pesante si era qualificato un po' dietro sapeva che nel momento che i suoi avversari che erano partiti qualche fila davanti si fermavano a fare il rifornimento lui aveva una macchina leggera quindi poteva anche guadagnargli due secondi al giro era il momento che si giocava la gara l'ingegnere dice spingi e lui in effetti improvvisamente tira giù tre decimi ma passa da una frequenza di 170 a una frequenza di 190 20 battiti sotto sforzo sono tantissimi è la testimonianza di una marea di energia in più che consumi per tirar giù tre decimi e infatti lui riusciva a fare solo pochi giri a 190 battiti che erano era per lui come andare in qualifica ecco giusto per dare la dimensione dell'epoca in realtà se cambiavi passo con una macchina che era diventata leggera e gli altri avevano il pieno poteva essere una cosa che ballava un secondo e mezzo magari addirittura anche due non tre decimi esatto però rispetto al ritmo del giro prima quando gli hanno detto spingi rispetto al giro al ritmo del giro prima lui aveva tirato giù tre decimi rispetto al suo giro quindi aveva accelerato un po vuol dire che prima non era al limite era sotto il suo limite di poco però era di 20 battiti sotto a quando invece ha spinto a comandare in qualifica 20 battiti testimoniano un consumo energetico estremamente diverso a 190 vuol dire che sta consumando tantissime energie infatti non era in grado di fare tutta la gara come se stesse in qualifica cosa voglio dire che se io rallento tre quattro decimi rispetto al mio ritmo di gara io consumo la metà delle energie perciò se Verstappen a un certo punto si è reso conto che gli bastava gestire per arrivare in fondo se Sainz si è reso conto che il primo non lo prende e il terzo non lo prende e Norris ha fatto anche lui quasi tutta la gara abbastanza solo a parte Perez che è venuto a prenderlo nel finale ma non lo poteva mai superare a quel punto rallentano un attimo il limite non prendono rischi gestiscono e consumi la metà delle energie quindi arrivi abbastanza tranquillo e riposato quindi mi hai dato una risposta rispetto alla tua prospettiva della scorsa settimana e però mi stai anche dicendo che per evitare un errore abbiamo visto una gara processione per scelta ma probabilmente per strategia a un certo punto la dinamica della gara ha portato a quelli di testa quelli tre piloti che sono saliti sul podio a gestire la gara portando la macchina in fondo sai lì per guadagnare due tre decimi a Monte Carlo ti devi prendere dei rischi enormi devi andare a baciare guardarei la ogni curva e abbiamo visto quando Charles ha tentato in qualifica di fare il giro all'estremo e invece che passare a un centimetro e questa volta il guardarei l'ha toccato quindi è chiaro che presuppone un'altra concentrazione un'altra tensione un altro spirito quindi se a Monte Carlo mi lascio quel piccolo margine a ogni curva quel piccolo margine di salvezza di sicurezza sono molto più tranquillo e guido molto più rilassato abbiamo parlato dei primi tre classificati proviamo un attimo a tirare fuori dal mazzo il settimo che poi il campione del mondo Lewis Hamilton un weekend Riccardo molto strano nel senso che non si è mai visto diventare protagonista praticamente nell'arco dell'intero weekend se non quando montate le gomme soft praticamente alla fine del Gran Premio ha sparato uno strepitoso giro veloce per prendersi quel punticino che riducesse un pochino la distanza dal vincitore Max Verstappen tu che chiave di lettura daresti rispetto a questa gara così abulica del campione del mondo perché abulica in pista e poi però piuttosto sostenuta nelle dichiarazioni con attacchi piuttosto duri alla squadra quello che normalmente dice si vince si perde tutti insieme beh sicuramente un vincente eh uscire da Monte Carlo con una un weekend anonimo e se sei un pilota come lui che ha vinto sette mondiali non puoi eh essere sereno e tranquillo è normale fa parte del suo DNA vorrebbe vincere tutte le gare è un cannibale vorrebbe vincere tutti i mondiali e tutte le gare quindi sicuramente non può essere contento poi soprattutto consideriamo il fatto che è stato tutto il weekend anonimo non è stata solo la gara sfortunata e il suo compagno di squadra era davanti e poteva lottarsi la vittoria quindi eh è innegabile che sarà stato un po' nervoso e questo è normale quindi magari a caldo escono fuori delle parole o delle espressioni che poi dopo il giorno dopo non rinneghi o non vorresti aver detto eh se mi metto nei suoi panni posso capire come non potesse essere contento però alla fine se è vero che Ronaldo può sbagliare un rigore eh il team la Mercedes e Hamilton possono sbagliare anche un gran premio ogni tanto anzi eh hanno un po' più di sapore a questo mondiale che direi mi sembra molto bello cioè mi sembra che che stia prendendo finalmente dopo tanti anni una strada che ci ci lascia tutti molto più interessati più appassionati vedere ora che non è più la Mercedes che conduce a classifica che non è più Hamilton che conduce a classifica poi magari si ribalterà tutto nella prossima gara però va tutto a beneficio lo spettacolo quindi non sarà contento Hamilton però penso che la frustrazione di Hamilton derivi proprio dal fatto che lui sapeva e di poter stare laggiù davanti ma non è non ci è riuscito quindi eh capisco che a caldo eh in preda alla frustrazione e ti puoi anche sfogare nella maniera sbagliata e questo può succedere normale e sono convinto che ora a distanza di qualche ora la vedrà le dinamiche nettamente diverse da quello che aveva visto a caldo. Molto interessante. L'altra cosa secondo me da analizzare col tuo occhio di dottore è la prestazione di Daniel Ricciardo. Tu avevi detto diamo tempo a questi piloti che hanno cambiato squadra qualche gran premio poi dopo Monte Carlo andiamo a fare un punto della situazione. Svoltiamo Monte Carlo e vediamo che eh diversi piloti ci metterei eh Daniel ma anche Fernando Alonso sono ancora in difficoltà. Eh che chiave dobbiamo dare a queste difficoltà. Ma e io sono il primo. Sul fatto che Ricciardo abbia fatto una pola abbia vinto una volta abbia fatto un secondo posto perché sbagliò la squadra ma avrebbe già meritato due vittorie. Di solito è un valore aggiunto Daniel Ricciardo a Monte Carlo. Qui invece eh ha beccato un giro dal compagno di squadra. Sì sì Monte Carlo il gran premio di Monte Carlo è come andare in bicicletta cioè non te lo dimentichi come si va forte a Monte Carlo. Quindi ci sono dei piloti che a Monte Carlo hanno sempre dato il massimo, sono sempre riusciti a esprimersi al di là della macchina nella maniera migliore e per me Daniel è uno di quelli. Come hai citato te ha fatto un ottimo curriculum su quel circuito. Quindi io stesso mi aspettavo poi dopo l'ultima prestazione dove si è visto che era in ripresa. Mi aspettavo un grande weekend. Mi aspettavo un weekend come ha fatto Norris cioè protagonista nelle prime posizioni. Non me lo so spiegarne anch'io. Onestamente faccio fatica. Lo stesso per Fernando. Fernando eh a Monte Carlo è sempre stato anche lui un pilota molto molto forte, molto combattivo. Invece è venuto fuori un weekend anonimo. E io penso che dobbiamo tornare a quello che ci eravamo detti un po' di tempo fa. Eh guidare queste macchine per portarle veramente al limite devi averle perfette come un vestito. Devi sentirle perfette come un vestito. E probabilmente sia Fernando che Daniel ancora non hanno trovato quella quella sensibilità quella e soprattutto poi si tratta di confidenza perché se non trovi la sensibilità non hai neanche la confidenza. Quindi non te li prendi dei rischi. Soprattutto non te li prendi a Monte Carlo perché ogni piccolo errore vuol dire fermarsi vuol dire compromettere. Quindi se non hai la confidenza perfetta con la macchina Monte Carlo è proprio il circuito dove non puoi cercare il limite. E probabilmente secondo me dipende ancora da quello. Io gli do ancora fiducia a tutti e due. Sono convinto che arriveranno. Forse non era questo il circuito migliore per potersi esprimere. Ma il parlo mentale quanto scava nella testa di un pilota? No, nella testa di Fernando e di Daniel non ci sono cali mentali, non ci sono insicurezze, non ci sono dubbi. Sono due piloti che sanno di essere forti, hanno un enorme self confidence, sono convinti dei loro mezzi, riescono sempre a dare il massimo di quello che hanno in quel momento. Probabilmente, penso, la mia supposizione, ancora non si sentono la macchina come vorrebbero. Probabilmente non sono ancora entrati in sintonia tecnica con la macchina. Ah ok, quindi è un legame probabilmente legato al come si deve guidare la macchina più del come viene interpretata. Presumo di sì, presumo di sì, magari stile di guida che non riesce a, diciamo, a tirare fuori il meglio da quella macchina. E ripeto, quello che quando parli coi piloti spesso usano la parola confidence, non verso se stessi. Io parlo di campioni, dove, come parlo di Fernando e di Daniel, piloti che hanno già dimostrato di essere dei vincenti, quando usano la parola confidence è non la quanto credono in loro stessi. Per loro la confidence è quanta confidenza hanno nel guidare la macchina, quanto se la sentono. È un po' quello che nelle moto può fare due secondi di differenza dal venerdì al sabato. Nelle moto, nella moto GP, un pilota che, soprattutto l'anteriore, quando parlano della gomma anteriore, quella, avete visto, no? Vi ho visto Franco, quando ti tradisce l'anteriore scivoli via e lì si tratta di millimetri, di gradi, di inclinazione e spesso volentieri qualche volta riesci a sentirlo, stai per cadere ma riesci a sentirlo, qualche altra volta ti tradisce subito e cadi. Quindi se il pilota di moto non ha quella confidence con il suo mezzo meccanico, magari sta a uno o due secondi sotto il suo limite, perché non sa dove è il limite. Nella macchina, in una macchina, questo invece che essere due secondi è due decimi, però due decimi fa la differenza. Siamo arrivati in fondo, grazie Riccardo. Allora, amici di motosport.com, commentate qui sotto, fateci le domande, cliccate la campanella per ricevere le informazioni sul prossimo video di motosport.com. Appuntamento mercoledì prossimo. Magari cosa parliamo? Di MotoGP, Gran Prima d'Italia? Beh, c'è il Mugello e mi sembra inevitabile fare due chiacchiere sul Mugello, sperando che porti qualche soddisfazione ai colori italiani. Piloti, team, vediamo. Molto bene, grazie Riccardo. Grazie Franco, buona giornata.